Credo che il mio percorso all'Arezzo sia finito dal punto di vista motivazionale ed emotivo. Detto questo, non sono io che decido, ho un contratto in essere con la società, sarà il presidente e il direttore che faranno le loro valutazioni, però la mia considerazione rimane questa. Il fatto che io, a domanda che mi è stata fatta in sala stampa, serenamente abbia risposto che ne avremmo parlato con la società, ero molto tranquillo, lo sono tutt'oggi, vi anticipo io le domande e quindi vi rispondo diretti. Leggo dalle rassegne stampa di Gigi che sono inseguito da Fior di Squadroni, allora oggi approfitto del premio che mi viene consegnato per dire che nessuna, e sottolineo nessuna squadra di Serie B mi ha contattato, le due squadre di Lega Pro che mi hanno contattato le ho fatte per venire al direttore, quindi ero informato di tutto. Non li erano viste? No, quello non lo posso dire per rispetto loro, non per me. Comunque non Toscane, così sgombriamo Siena o quello che gli va dietro, perché ho letto un po' di tutto. Posso dire senza paura di sbagliare o senza paura di cadere in errore che non sono stato cercato da nessuna di queste società qui, né Empoli, né Siena, né quello che è stato scritto, sono tutte bufale. Detto questo, la mia richiesta di svincolo appena finito il campionato deriva dal fatto che quando firmai il contratto, io e il presidente mi fece buonariamente la battuta, mister tutti sti soldi, come si fa? E io risposi che se non fosse stato contento a giugno di quest'anno avrei rescisso e cestinato il contratto senza nessun problema, perché su queste cose qua io mi ritengo ancora una persona di una volta. Detto questo, nessuno mi ha puntato alla pistola per fare due anni di contratto, ma queste sono trattative tra società e allenatore normalissime che succedono a tutti, quindi ho chiesto la risoluzione del contratto in un momento in cui non volevo che si pensasse che l'allenatore scappasse, o come ho visto che mi è stato dato del mercenario, faccio presente che le due società di Lega Pro che mi hanno proposto i contratti mi davano la metà di quello che guadagno ad Arezzo, che qua guadagno tanto, quindi non ho cercato lì di migliori o situazioni migliori, ho semplicemente fatto una considerazione che il mio lavoro qui fosse finito. E oggi resto ancora di questa idea qua, tenendo presente che sono un tesserato sotto contratto, quindi deciderà il direttore la mia sorte. Si aspettava qualche argomento per convincerla di maniera o qualche garanzia tecnica, magari di ambizioni per il futuro? No, anche questa meglio, questa me l'ho dimenticata da specificare. Ho detto nella riunione che abbiamo fatto il martedì seguente al Pisa, c'erano tutti, c'erano il presidente, i direttori, il mio secondo, e ho detto semplicemente al presidente che avrei quasi vergogna a fargli una richiesta del genere, perché sono due persone che mi hanno messo nella condizione di lavorare, come ho detto prima, come ho voluto, quindi non sono Marcello Lippi che ha la pretesa di allenare a Juventus Stellare e quindi chiede giocatori a go-go, assolutamente no, anzi resto dell'idea che il direttore sia talmente scafato da fare allestire, a prescindere da chi sarà allenatore, una rosa all'altezza della situazione perché l'ha sempre fatto. Detto questo, non era quello il motivo di scelta tra il fatto di rimanere o non rimanere, era soltanto una considerazione personale associata ad altri affari miei, che non sto qua a elencarvi, che non c'entrano in niente, però non c'entra niente il rapporto che ho con la società, tifosi, città.